Qualche settimana fa abbiamo parlato dell'incontro svoltosi per la firma dell'accordo di programma per la realizzazione della metropolitana leggera che dovrebbe collegare l'area urbana di Cosenza. La firma saltò perché alla riunione non prese parte il sindaco di Cosenza Mario Chiuto in disaccordo con alcune varie azioni a portato al progetto. Rapporti ancora tesi ed ora il presidente della regione Mario Oliverio a scrivere al primo cittadino Bruzio. Questa presidenza, scritto Oliverio, ha rivolto invito pubblico per far pervenire le proprie finali determinazioni. Abbiamo dovuto registrare come non sia stato dato alcun formale riscontro in merito. È stato quindi rinnovato l'invito, ha concluso il governatore, a voler comunicare quanto prima la disponibilità all'incontro per la chiusura e sottoscrizione dell'accordo, ovvero la propria diversa finale determinazione in merito, dovendosi precisare che in difetto non potremo esimerci dall'assumere le conseguenti decisioni e iniziative in conformità alla legge e all'interesse pubblico.